La mia prima volta come caricatore del Cristo risolto fu intorno ai 13 anni. Non dire votazione all'associazione per fare i portatori. Quella volta l'associazione portatore migliore. Non mi ha scattato, non mi ha scattato, non mi ha scattato. Credere è una teoria che mi fa sperare e mi fa continuare a vivere la vita meglio. Faremo questa vita e poi pensare che ogni giorno mi chiudo gli occhi e non c'è più niente. Io voglio sempre sperare che ogni giorno viro tutti gli amici miei che gli ho perso. E ogni giorno ci sia qualcuno che mi dice tu hai fatto questo errore. Aveva sbagliato qua. Come si dice? Posso riparare. Io c'ero che io ho risposto il tuo nome. Ora, io c'ero da chi il mio sangue e che se mi gira a pute a guardare il giro. Oggi ma sono qua. Ho fatto questo. Perché? Non mi piace subito così. E ci sono un fiction di città. ragazzi. Perché partiamo dal principio che noi facciamo sempre comunque quello che lui vuole, perché se è vero come è vero che sia fatta la volontà di Dio, anche quello è fatto per sua volontà e non per nostra. Il Cristo risorto non è proprietà di nessuno, in quanto tale non esiste un Cristo che è di proprietà. Stiamo parlando di un qualcosa che è comunque un legno, ma è un legno per chi lo vive come un legno, per me rappresenta Gesù, rappresenta la vita, soprattutto rappresenta la rinascita. Grazie. 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 Grazie.